Ciao a tutti, sono Marco Svergara, vicepresidente del Club 64, ho il piacere di informarvi che da sabato 29 settembre tre educatori saranno sempre presenti, saranno imprevisti, comunque ci sarà sempre qualcuno per fare l'accoglienza ai ragazzi. Al Club 64 di Evilly Germo 72 a Modena infatti dalle 3 e mezza alle 6 e mezza tutti i ragazzini possano venire da noi e provare a giocare al nuovo gioco, la cosa è studiata su tre ore in maniera che i genitori possano portarli lì, ci saranno due o tre educatori a seconda dei giorni che li tengono dietro, giocano con loro, gli danno qualche consiglio e soprattutto sì, cercano di appassionarli a quello che per noi è il gioco dei giochi fondamentalmente. L'operazione sarà completamente gratuita, sarà attiva tutti i sabati da qui alla fine dell'anno scolastico, indicativamente. L'unica cosa che chiediamo è il tesseramento al Club, quindi le lezioni saranno completamente gratuiti, ma chiediamo il tesseramento al Club e l'iscrizione a quanto riguarda la tessera della Polisportiva San Faustino, questo perché per essere la Polisportiva San Faustino dobbiamo avere una tessera per usare gli spazi comuni. Dopodiché tutte le lezioni, tutti i giochi liberi, tutte le partite, tutte le analisi, tutte le chiacchiere, tutti i piccoli segreti e tranquilli via, quello è completamente a carico del Club. Vi invitiamo tutti, venite, giocate, indipendentemente dal vostro livello, è una bellissima esperienza anche perché a parte me che non so praticamente giocare, gli altri due ragazzi sono Dionigi, Riccardo e Ferraguti Francesco che sono due candidati maestri abbastanza forti, quindi sono più che in grado di dare consigli a 20 centri. Siamo stati tecnicamente scelti anche perché sono molto, molto giovani, nonché membri del consiglio direttivo del Club 64, proprio per facilitare la conversazione con i nuovi ragazzi. Per quanto riguarda i genitori, questa per come la vediamo noi è un'ottima cosa perché ti permette di fare la spesa, di fare una passeggiata col cane, lasciare lì il ragazzo alle 3, un quarto, 3, 20, 3, mezza e poi venilo a prendere due ore dopo, tre ore dopo quando il Club chiude in maniera che possano abbiate il tempo per fare le vostre cose e il ragazzo abbia il pomeriggio libero per divertirsi. Non è necessario venire tutti i sabati pomeriggio, non è necessario pronotare, non è necessario confermare, se venite ci fa piacere, se venite ci fa piacere noi cercheremo di farvi divertire al meglio. Ovviamente visto che serve la tessera del Club e serve la cosa, la tessera purisportiva le prime volte non vi chiederemo queste cose qui. Molto buona questa cosa qua che non è necessario confermare prima e non è che dovete per forza fare presenza, voi venite quando ve la sentite, se non avete niente da fare col sabato lì, venite, se è comodo ai vostri genitori di portarvi lì perché potrebbero andare a fare spesa sul mercato vicino, venite, se volete anche solamente provare, venite, se avete un amico che sa giocare a scacchi e voi siete un bocchettino più ravini e volete che un buon giorno in giro, invitate pure tutti quelli che volete, non abbiamo limite né di spazio né di raro né di niente. Tutti i sabati pomeriggio a partire dal sabato 29 settembre dalle 3.30 alle 6.30, tre educatori saranno vostre a completa disposizione. Speriamo di vedervi numerosi. Grazie mille.